L'applauso del pubblico che conclude la finale anche per le due coppie appartenenti alla 19 e 34 anni di classe A1. E per voi, Quick Step! L'applauso del pubblico che conclude la finale anche per le due coppie appartenenti alla 19 e 34 anni di classe A1. L'applauso del pubblico che conclude la finale anche per le due coppie appartenenti alla 19 e 34 anni di classe A1. L'applauso del pubblico che conclude la finale anche per le due coppie appartenenti alla 19 e 34 anni di classe A1.